Riprenderanno nel pomeriggio gli allenamenti in casa Taranto, la squadra si riunirà agli ordini di La Terza per preparare il delicato impegno interno contro il Cerignola, penultimo atto di un campionato che pede Rosso-Blu a più uno sul Picerno a 180 minuti dal termine. Il primo lavoro del tecnico ionico sarà per lo più di natura mentale, tanto lo scoramento dopo il pareggio di Francavilla, ma il destino è nelle mani del Taranto ed è questa la consapevolezza con la quale i calciatori dovranno scendere in campo. Altro nodo cruciale riguarda il recupero di alcuni degli indisponibili, con Falcone e Guastamacchia out fino a fine stagione si spera quantomeno di rivedere all'opera i vari Diaz, Alfageme, Corbino e Berzienti, tutti alle prese con recenti acciacchi di natura fisica. Uno sforzo comune è quello richiesto dalla Terza ai suoi, un modo di far quadrato per centrare due vittorie che a conti fatti significherebbero salto di categoria indipendentemente da quelli che saranno i risultati del Picerno.